Amici bentornati a di nuovo quel momento dell'anno in cui dobbiamo andare a parlare delle novità introdotte da Apple e andiamo a parlare in particolare di iPhone 16 Pro. Abbiamo visto il video di presentazione, nel corso di questo contenuto vado a darvi le mie reazioni a caldo a questa presentazione e andiamo a vedere che cosa mi piace e che cosa un po' meno. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto perché continuerò ad aggiornarvi man mano che escono le notizie e andremo a vedere se arriva qualcosa di un po' più succoso perché sono convinto che non ci abbiano ancora detto proprio tutto. Credo proprio che potremmo cominciare con il prezzo, il modello base si attesta intorno ai 1240 euro quindi non troppo distante dal modello precedente. Andiamo subito a parlare di quella che secondo me è la novità principale ovvero il pulsante controllo fotocamera. È un secondo pulsante posizionato più o meno qui quindi di fianco al pulsante di accensione e dovrebbe fungere da shutter per la nostra fotocamera. La cosa mi è sembrata interessante personalmente è la cosa che mi interessa di più quindi ve l'ho messa per prima sono stato anche bravo. La cosa che a me personalmente fotograficamente interessa di più è proprio questo bottone perché dovrebbe servire a restituirci una sensazione più simile a quella della fotocamera quindi l'iPhone 16 Pro si conferma essere un camera phone quindi un telefono che punta molto sull'aspetto fotografico tanto che finalmente hanno messo un pulsante dedicato per la fotografia. La cosa che sembra oltretutto essere molto promettente è che questo bottone funziona proprio come lo shutter su una macchina fotografica cioè ha più tipi di pressione quindi io posso andare a mettere a fuoco con una pressione leggera e scattare la foto con una pressione un po' più pesante. Inoltre sembrerebbe essere touch quindi io scorrendo il dito posso andare a fargli compiere delle azioni come modificare la scena modificare la focale probabilmente sarà impostabile. Questa mi sembra una buona cosa una bella intuizione forse è il primo telefono a farlo non lo so ditemi nei commenti se c'è qualche altro telefono che ha già introdotto una miglioria di questo tipo secondo me questa è una cosa che va sicuramente bene. Per quanto riguarda l'aspetto video la miglioria più bella che ho visto introdurre è che avremo il 4k a 120 frame al secondo una cosa che mi aveva non dico scocciato però mi aveva lasciato un po' male su iPhone 15 Pro era che il 4k aveva molte limitazioni e questa era proprio una di quelle avere il 4k a 120 frame al secondo sicuramente è una cosa che ci fa molto piacere così possiamo avere dei bei filmati cinematici in slow motion anche girando giustamente in 4k. Ovviamente la star della serata in realtà dovrebbe essere il nuovo processore che è l'A18 Pro nel caso dell'iPhone 16 Pro un processore che promette faville staremo a vedere vedremo come si comporta sicuramente si comporterà bene sul processore io non ho grandi appunti da fare perché sono convinto che da quel punto di vista fanno sempre un ottimo lavoro. Altra cosa che personalmente mi piace molto è come hanno ridisegnato i microfoni di questo dispositivo perché a quanto pare abbiamo la possibilità di scegliere qui abbiamo vedete vi faccio vedere questa schermata della presentazione in cui vedete che abbiamo un mix audio e a quanto pare possiamo scegliere tra standard primo piano studio o cinema in poche parole sembra che abbiamo dei microfoni posizionati in punti diversi del telefono e quindi possiamo decidere come vogliamo catturare l'audio se vogliamo catturare l'audio vicino all'apparecchio più lontano dall'apparecchio insomma ci sono un po di opzioni che secondo me sono molto interessanti perché una cosa con cui mi trovo sempre in difficoltà anche con il 15 pro è proprio la cattura dell'audio per cui vado a utilizzare dei microfoni esterni il che però mi mette in difficoltà perché essendoci un solo ingresso quando io uso dei microfoni esterni non posso fare nient'altro col mio telefono ce l'ho immobilizzato e non posso usare altri accessori perché sto già utilizzando il microfono se ci fosse la possibilità di catturare un audio pulito direttamente col telefono magari anche con l'intelligenza artificiale che va a pulire il segnale questo è un utilizzo dell'intelligenza artificiale che mi piacerebbe molto se andasse effettivamente a ripulire io potessi dirgli catturami un audio e processamelo già on the fly così che quando mi salvi il file quando mi scrivi il file io ho già un audio pulito quello mi piacerebbe molto bisogna capire se sarà effettivamente così e qui invece arriviamo alle cose che mi convincono un po di meno e ragazzi ci sono anche quelle io per forza di cose ve le devo dire abbiamo messo 48 megapixel sulla fotocamera grandangolare ora voi direte tu lo usi un sacco il grandangolo ferrari perché non sei d'accordo sui 48 megapixel non sono d'accordo non è che non sono d'accordo diciamo che mi fa storcere un po il naso per due motivi il primo è ma ne sentivamo davvero il bisogno qualcuno aveva bisogno di tutti quei megapixel alzate la mano scrivetemelo in un commento personalmente io non le uso mai 48 megapixel scatto sempre tutto a 12 perché sono più che sufficienti per tutti gli utilizzi per cui io vado ad adoperare un telefono cellulare che sono tendenzialmente i social magari anche per lavoro ma comunque per i social di altri clienti quindi non ho bisogno di quella risoluzione che poi attenzione i megapixel sono risoluzione e la dimensione del file non è la qualità la qualità è un'altra cosa quindi aumentare i megapixel per quanto mi riguarda è una mossa strategica per farti comprare spazio in cloud e proprio qui volevo arrivare fotografie più grandi significa più spazio in cloud e quando siamo su iphone significa più spazio in cloud sul cloud di apple e questa è la cosa che a me non piace di questa politica ovvero farci credere che la fotocamera è stata migliorata quando in realtà ci fa solo delle foto più pesanti ora lungi da me voler demonizzare i megapixel fino a un certo punto io sono il primo a riconoscere che sono assolutamente necessari fino alla ventina 20 megapixel è il mio limite io oltre non andrei e non ci andrei sulle macchine professionali figuriamoci su un telefono quindi secondo me questa è solamente una mossa per per far incrementare gli abbonamenti sulle piattaforme di stoccaggio in cloud andiamo però a vedere quali sono le altre novità introdotte sulle fotocamere del telefono e oh accidenti abbiamo il macro che è sempre il grande angolo questa cosa ragazzi io l'ho detestata l'ho detestata sul 15 pro e la detesto anche sul 16 perché a quanto pare l'hanno lasciata uguale lo fanno vedere anche nella presentazione la persona che va a fare la fotografia alla rana da tanto così utilizzando il grande angolo ragazzi ma vi pare che ci avviciniamo a degli animali selvatici a tanto così per fargli la foto con l'ultra grande angolo non staranno mai fermi lì la macro non dovrebbe stare sull'ultra grande angolo la macro dovrebbe a parte sarebbe bello poter fare la macro con tutti gli obiettivi questo io volevo vedere su questo telefono io volevo poter fare la macro con l'obiettivo che volevo io non con quello preimpostato che decidono loro questa è una cosa che a me personalmente non piace il grande angolo la macro la fa anche bene da quanto ho visto dalla presentazione la fa benissimo la fa meglio del 15 pro da quello che ho visto dalla presentazione quindi è bello va bene però fare macro con l'ultra grande angolo secondo me è un controsenso perché sia che stiamo fotografando un animale io non voglio avvicinarmi così tanto se sto facendo un macro di un animale voglio farla da un po più indietro per non spaventarlo per non dargli fastidio sia che io sto fotografando un prodotto sto fotografando un orologio una bottiglia qualsiasi cosa se io mi avvicino così tanto a per fare una macro si deforma tutto non è l'obiettivo giusto per fare macro questo per me è un colpo basso che l'abbiano lasciato così e poi andiamo a vedere abbiamo 13 mm 24 28 35 48 120 praticamente non è cambiato nulla nella fotocamera ora ho sentito dire che la qualità è migliorata però io quello che vedo è che non è sostanzialmente cambiato nulla hanno preso il comparto fotografico del del 15 pro max in realtà perché il 120 mm era del 15 pro max l'hanno esteso a probabilmente anche al pro base questo va anche bene però sostanzialmente per quello che io ho potuto vedere non ci sono cambiamenti sulle fotocamere quindi lato fotografico processore non lo so il processore sarà bellissimo però lato fotografico mi hai aggiunto un tasto e per il resto le macchine sono le stesse di prima se tanto mi da tanto a sto punto io con il 15 faccio le stesse foto e devo solo fare la fatica di usare il pollice invece dell'indice per scattare le mie fotografie questa è una cosa dove non lo nego mi aspettavo qualcosina di più hanno detto che hanno migliorato il teleobiettivo in effetti la qualità del teleobiettivo sugli iphone 15 pro non è proprio la più limpida che si sia mai vista se hanno migliorato la qualità del teleobiettivo già posso essere soddisfatto di questo però per quello che posso vedere il comparto fotocamere è rimasto esattamente lo stesso e quindi mi domando come fai a convincermi a comprare un camera phone nuovo e costoso quando praticamente ti fa le stesse cose di quello vecchio questo è il mio dubbio poi hanno anche detto che ci saranno vigorose implementazioni di intelligenza artificiale questa può essere una cosa buona ma può anche essere una cosa brutta vi dico perché normalmente le migliorie tecnologiche dal sottoscritto sono bene accette infatti se mi date uno strumento io posso scegliere se usarlo o non usarlo però intanto ce l'ho lì e prima o poi mi può servire e finisce che lo uso e magari mi ci diverto anche quello che mi domando sempre con uno strumento come questo è mettere in mano a chiunque perché ormai l'iphone è quasi lo standard quindi mettere in mano a chiunque uno strumento che ti modifica le foto al volo è una cosa buona lo dico per per come funziona il nostro cervello per come si evolve la nostra cultura cioè noi siamo nati e cresciuti finora in un mondo in cui se ti facevano vedere una fotografia più o meno sapevi che al di là di tre o quattro circuiti complottisti dove ti facevano vedere la fotografia dell'ufo piuttosto che la fotografia di di elvis a panama con il sigaro che era ancora vivo a parte quelle due cose lì dove un po di dubbio lasciatemelo dire rimane a parte quelle cose lì se ti facevano vedere una foto era sostanzialmente vera se vi fanno vedere la fotografia di donald trump con la mano qui col sangue con la bandiera dietro avete presente avete seguito il notiziario se vi fanno vedere quelle robe lì dite ok mi viene il dubbio mi vado a sincerare però la foto sembra vera sembra veramente vera che cosa succede nel momento in cui chiunque e per chiunque intendo anche chi non ha intenzioni limpide chiunque può produrre fotografie e poi postare una determinata scena e poi modificarla a suo piacimento magari semplicemente col comando vocale in che mondo andiamo a finire perché guardate che tra chi fa una cosa semplicemente per ingenuità e chi fa una cosa con malizia il passo è breve ma il danno lo possono fare entrambi e quindi alla fine ci stiamo esponendo a dei rischi enormi questi sono i miei dubbi queste sono le mie considerazioni a questo punto io vi chiedo come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate in un commento qui sotto iscrivetevi al canale perché se avete domande a cui io non so rispondere perché non ho ancora questo dispositivo in mano ma ci proverò lo stesso risponderò con degli shorts verticali signori è stato come sempre un piacere passare un po del mio tempo con voi se sapete qualcosa più di me rispetto a questo dispositivo se avete letto qualcosa in più perché io registro il video e poi le notizie continuano a uscire quindi magari ora che io pubblico il video magari si è saputo qualcosa di più di quello che so io se sapete qualcosa di più lasciate lo scritto in un commento qui sotto noi ci aggiorniamo presto e io vi do come sempre appuntamento al prossimo video Ciao! 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 Grazie a tutti.